buongiorno buongiorno a tutti eccoci per eh la rassegna stampa di giovedì diciotto novembre cosa accade oggi? Bah eh accade che ci sono state le nomine della RAI e che il Movimento Cinque Stelle e Conte in particolare ehm ha dato i numeri ehm perché il loro eh direttore non è stato confermato e quindi la ventino dei Cinque Stelle rispetto alla RAI tutte cose fanno un po' ridere quelli che devono aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno quelli che erano contro l'autorizzazione e via dicendo lamentano che non gli hanno dato i poltrone questa è la sostanza ma la l'altro tema che è sui giornali è la rottura della ehm diciamo del del numero dei contagi abbiamo superato i diecimila e quindi molti ehm eh diciamo eh rimettono in discussione anche la tranquillità la serenità tra virgolette dell'Italia anche se rimane in una condizione ancora assolutamente diversa da altri paesi europei c'è tutto il dibattito in funzione anche del Natale di come vedremo il Natale piacendo di intervenire sono soprattutto i presidenti delle regioni soprattutto quelli di destra che chiedono di intervenire con misure che si differenzino tra chi è vaccinato e chi no tema che sembra Draghi al momento non vuole prendere in discussione e poi ci sta ancora qualcosa sulla manovra il Quirinale eh insomma queste sono le notizie che eh diciamo sono le stesse dei giorni scorsi con l'aggiunta della Rai che sicuramente oggi fa la parte del Leone però io comincerei come al solito dalla questione covid e andiamo tutta la sera per vedere qual è la situazione superata la soglia dei diecimila contagi stretta sul green pass mossa delle regioni e qui ehm è l'articolo di Fabio Savelli e c'è il primo presidente il neo eletto presidente della Calabria eh che interviene sul tema delle misure più restrizioni ai non immunizzati tutti bimbi inclusi ehm pagina tre eh la Adriana Logroscino ci parla della delle strategie negli ospedali si moltiplicano i posti ecco come si evitano altre chiusure in Veneto e Valle d'Aostra capienza raddoppiata nelle terapie intensive da Bolzara a Lazio così aumentano i letti e cala la percentuale di rischio insomma eh questo è quello che ci dice il il Corriere della Sera a proposito delle eh dei contagi abbiamo visto chiuto e allora a questo punto ehm intanto capiamo quali sono proprio dal Corriere della Sera le ehm le possibili misure che si prendono e cosa vanno a toccare insomma la lotta al virus pagine otto e nove del Corriere della Sera per quanto riguarda i viaggi ingressi in Italia passo o tampone i corridoi eh per le Maldive per quanto riguarda le feste cenoni in zona gialla al ristorante solo in quattro per ogni tavolo e poi per quanto riguarda lo shopping i negozi restano sempre aperti la mascherina è obbligatoria sullo sci che interna del turismo soprattutto in montagna è insomma è un problema serio le cabinovie piene all'ottanta per cento e in zona arancio si ferma tutto e poi ancora i mercatini se nella regione crescono i malati sono possibili misure restrittive insomma per accedere agli impianti in quota necessaria la certificazione verde non è prevista alcuna limitazione per le bancarelle in strada ehm questo è il diciamo quello che si sta affrontando ma dicevamo il tema delle misure Enovax e soprattutto delle eh prese di posizione dei governatori abbiamo visto occhiuto c'è anche però Zaia se andiamo a pagina eh cinque scusate del Corriere della Sera imporre lockdown ai non vaccinati sarebbe un errore per il virus o pianta un'intervista a tutta pagina che Corriere della Sera fa la Zaia che è quello che invece vedete rispetto agli altri governatori di destra ha una posizione diversa se invece però andiamo sulla stampa troviamo Fontana eh pagina quattro un altro lockdown sarebbe un disastro le limitazioni valgano solo per i Novax e vedete qui invece a differenza di Zaia Fontana ehm va diritto va sul 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 tema ehm poi abbiamo ancora da segnalare ehm eh Toti che è sull'avvenire in questo caso e che a pagina sette dell'avvenire eh ecco qua parli la malogioranza silenziosa Toti il Green Pass ne serve uno per chi è vaccinato e uno per chi fa il tampone insomma questa è la panoramica dei governatori eh che oggi si esprimono sull'argomento eh sulla ehm Repubblica a pagina tre vedremo adesso quelli che le posizioni non solo dei governatori ma anche degli altri ma insomma eh il retroscena di eh Tommaso Ciriaco cresce il partito dei divieti ai Novax ma Palazzo Tigi per ora resiste si diletta lockdown per i non vaccinati Gelmini dice lo chiedono le regioni ascoltiamole il governo dice incentivare le mascherine anche all'aperto e accelerare con le terze dosi e allora per vedere cosa ne pensa Draghi bisogna andare sulla stampa a pagina tre è il retroscena di Alessandro Barbera no al modello Austria per ora lo stop di Draghi ai governatori le regioni chiedono che eventuali lockdown siano solo per i Novax speranza è letta d'accordo il governo però rinvia la stretta su terza dose certificazione verde situazione sotto controllo così eh la mette ehm la stampa il dubbio eh intervista l'ex presidente della forza costituzionale Mirabelli che è netto è impensabile confinare chi non è immunizzato evitiamo derive autoritarie eh questo è Mirabelli vi ricordate ieri Irti giurista Irti non su questo tema ma sul tema della eh prolungamento dello stato d'emergenza e insomma ci sono posizioni eh diciamo non di Pasbaran che eh però manifestano quanto meno dubbi eh sul messaggero a pagina tre restrizioni a zone rosse le regioni fanno da sole ecco qua eh eh da Napoli a Bolzano la lineatura degli amministratori che scavalcano il governo molti impongono la mascherina all'aperto la Calabria sodio è più rigide per le fasce a colori questo è quello che eh si sta ehm aprendo all'orizzonte vedremo poi effettivamente che cosa accadrà ehm oggi non si parla mh prevalentemente dei vaccini quanti invece di eh cure nella fattispecie è la Repubblica pagina quattro che ci che ci parla dell'ultima trincea è la pillola antivirus in Italia arriverà dopo Natale già pronto il maxi ordine usa per i rimedi di Pfizer e Merck ma vanno assunti subito dopo il contagio Elena Dusi ce ne parlano ce ne parla evidentemente non parliamo di un vaccino che è preventivo ma di una cura per chi si è preso eh il il covid che è una cosa diversa ma che è pure una cosa importante l'intervista che Michele Bocci fa alle eh al consulente l'esperto e consulente del commissario figliuolo Rasi che dice ma i vaccini restano le fondamenta della nostra battaglia cioè ci saranno pure le cure ma le cure per chi si è preso il covid sarebbe molto meglio non prenderselo e per non prenderselo l'unica via possibile è quella del vaccino oltre che di tutte le misure la mascherina distanziamento le mani compagnie bella ma insomma se andiamo poi sul eh giornale a pagina undici eh a proposito delle delle pillole e delle cure alternative in questo caso è un vaccino pronto il via libera al Novavax bio e senza effetti collaterali crolla l'ultima scusa Novavax il vaccino proteico è in attesa dell'ok di Ema prende spunto dai sieri in uso per i patiti ed herpes stimolano l'immunità e insomma vedete oggi ehm eh ci si concentra più su eh le le alternative eh sia nella cura quindi non alternative in realtà al vaccino ma anche ai vaccini normali eh questo è il quadro mh la situazione abbiamo visto com'è in apertura cioè i diecimila casi e vi dicendo c'è una particolare preoccupazione per le RSA ce lo dice la stampa con il reportaggio di Nicola Nicolò Zancan eh RSA torna la paura il virus rialza la testa anche nelle strutture di assistenza per anziani tutti i positivi e una vittima in un centro ad Aosta cinque morti ad Ancona i sanitari dicono non bastano più le protezioni la terza dose è in ritardo e eh qui c'è una prima eh accusa nei confronti del presidente del governo e in particolare del eh commissario Figliuolo vedremo eh qual è la situazione fuori eh dai confini italiani ecco insomma se da noi stiamo a diecimila casi e andiamo sul Corriere della Sera ma c'è anche su altri giornali e abbiamo due casi eh la Germania Merkel la situazione è drammatica in Germania nuovo record di malati cinquanta quattromila dicasi cinque volte quelli italiani e di vittime duecentonovantaquattro ben più di quelle italiane la sanità vicina al punto critico eh questo è Paolo Valentino che è il corrispondente da Berlino del Corriere della Sera e poi c'è Irene Soave che si occupa invece essendo inviata a Vienna dell'Austria Vienna fila al Duomo per vaccinarsi e non rinunciare a caffè e codolette insomma situazione complicata abbiamo visto poi paesi balcani che sono anch'essi una situazione eh molto difficile e questo è il quadro chiudiamo il capitolo covid e apriamo quello invece delle misure economiche non solo comincerei innanzitutto con il recovery plan perché il messaggero a pagina sette rifiuti dote da due miliardi al centro Italia le briciole via e beh chiaramente essendo messaggero un giornale del centro di Roma eh mette in evidenza che al centro vanno le briciole via bandi per realizzare nuovi impianti ma i criteri penalizzano le regioni centrali il quaranta per cento delle risorse destinato al sud al nord ne vanno altrettante restano solo quattrocento milioni questa è la denuncia che fa il messaggero ma eh a proposito di recovery di Europa eh c'è il tema degli aiuti di Stato e e qui c'è una richiesta dell'Italia ce lo dice la stampa pagina ventiquattro la svolta dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato più incentivi per l'industria dei chip Bruxelles vuole raddoppiare la produzione per essere più indipendente stretta su chi inquina l'obiettivo è competere con USA e Cina Germania Francia Italia favorevoli i Paesi Bassi frenano questo sugli aiuti di Stato e allora veniamo però adesso all'Italia con eh la manovra ehm eh però rimanendo a Bruxelles perché la Repubblica ci dà eh una quindi rimanendo in Europa ci dà una notizia pagina otto eh che la mano Bruxelles dà via libera alla manovra in arrivo altri venti miliardi del recovery il progetto di legge di bilancio scrive Claudio Tito che è il corrispondente eh Bruxelles della Repubblica il progetto di legge di bilancio inviato dal governo all'Unione Europea è stato approvato l'annuncio ufficiale il venticinque novembre promozione per gli impegni presi dall'esecutivo per il PNRR ora si potrà accedere alla seconda tranche di fondi ehm questo eh ci dice la Repubblica quindi il via libera di eh Bruxelles. Bruxelles. La Repubblica ci segnala anche nelle pagine dedicate all'economia in particolare a pagina ventidue eh tetto al contante a mille euro dal duemilaventidue riparte la sfida al nero e Raffaele Ricciardi che dice in vigore dal gennaio cambia la lotteria degli scontrini duello sul cashback insomma è la lotta l'evasione ancora è d'altra parte sempiterna potremmo dire eh italiana eh nella manovra e la notizia che danno tutti i giornali oggi è quella dell'assegno unico perché parte l'assegno unico eh lo prendiamo dalla stampa ma c'è su anche su altri giornali poi c'è chi dice che non funziona eh quello che volete lo vedremo tra poco ma insomma assegno unico fino a centosettantacinque euro al mese aiuti anche a chi ha i figli maggiorenni oggi l'ok in consiglio dei ministri per le casse dello Stato uno stanziamento di altri sei miliardi questo ci dice eh eh la stampa eh il tempo ci arriviamo subito eh la mette così assegni familiari col trucco a pagina tre Filippo Calerica e scrive al consiglio dei ministri il decreto per il bonus figli bottino di centosettantacinque euro per ogni minorenne ma solo a chi ha Ise sotto i quindicimila euro il beneficio scende gradualmente per chi è più ricco secondo l'Inps solo cinquanta euro per chi ha un indice di ricchezza sopra i quaranta mila euro e poi a proposito di manovra il tempo ehm ci parla con ehm con un siglato Phil Calca non so bene chi sia e ristoria le imprese in arrivo il ministro Franco firma l'atto per assegnare quattro virgola tre miliardi al fondo perduto previsti dal disegno di legge di maggio dal decreto legge di maggio bene ehm da segnalare ancora libero due pagine la sei e la la sette ehm ehm altro che tagliare le tasse alleggerire le bollette chi parla è Giorgetti che frena i partiti il ministro leghista dice di lottare le risorse per sterilizzare i rincari o saranno guai per famiglie e imprese intanto volano ai massimi pure i permessi UE per inquinare eh poi a pagina sette questo era Francesco Specchi a pagina sette invece Sandro Giacometti ci parla dei bonus il governo fa un pasticcio sui bonus la retroattività del decreto antifrodi mette a rischio gli sconti sulle edilizie già ottenuti ti brutalisti di imprese salta tutto la segno vabbè l'assegno unico l'abbiamo già visto questo è quello che è denuncia libero rispetto alla manovra ieri come ehm riguarderete forse abbiamo parlato dell'inflazione della eh dei dati che sono usciti per cui l'inflazione in Italia è improvvisamente stizzata a tre per cento numeri che non si vedevano da parecchi anni oggi su questo ci sono due cose da segnalare un editoriale sul Corriere della Sera di eh Federico Fubini l'illusione Italia sui prezzi eh se andiamo a pagina trentuno eh scrive mhm eh Fubini che eh ricorda come ci sia ancora una tendenza molto forte degli italiani al risparmio e che continuano a depositare sempre più denaro liquido sui loro conti e questo ehm con l'inflazione e e tutta una serie di meccanismi porta sostanzialmente dice Fubini a una tassa di trentaquattro miliardi l'anno che le famiglie italiane si autoinflivano e chiude così il suo editoriale circola però un altro modo di reggere la realtà di cui qualche segno si è visto nelle recenti interviste al Corriere della Sera a Descalzi questa lettura alternativa vede un cambio di regime economico dopo la pandemia Descalzi non lo dice ma lo si capisce dalle sue parole il consumo di energia continua a crescere nel mondo intanto però gli imperativi del clima frenano gli investimenti nella produzione di gas e petrolio le nuove fonti non bastano ancora a soddisfare la domanda quindi i prezzi dell'energia il sangue dell'economia mondiale sono destinati a tenere sotto pressione tutti anche noi italiani la transizione verso verde obbligherà l'Europa a investire almeno cinquecento miliardi in più all'anno e l'Italia almeno cinquanta miliardi in più inoltre nella pandemia tante imprese anche medio piccole si sono rese conto che devono adottare più tecnologie e ciò implica trovare addetti in grado di usarle i quali si stanno facendo pagare sempre meglio per il loro richiestissimo lavoro anche per questo salgono sempre di più i prezzi dei beni di consumo destinati ai ceti medio alti insomma dei segni di un cambio di regime qua e là si notano non è un ritorno a liberi inflazione degli anni settanta solo l'uscita dal decennio deflattivo e non è qualcosa per cui la bce debba agitarsi anzitempo i prezzi salgono per carenza di offerta di nuovi beni e servizi dunque alzare i tassi non farebbe che limitare gli investimenti necessari e generare quell'offerta finendo per ehm finendo per creare ancora più strozzature nuova inflazione più avanti ps di recente i tassi di mercato del debito italiano sono tornati a salire rispetto a quelli della Spagna come non accadeva dalla crisi del governo Conte 2 i mercati si posizionano nell'eventualità di un pasticcio al momento del voto per il quirinale anche con un'uscita della dalla deflazione è uno scenario che proprio non possiamo permetterci l'aggancio di Fubini anche con la partita del quirinale di inflazione legata soprattutto però in questo caso alla manodopera al lavoro che ehm in realtà eh le molte aziende non trovano è invece sono invece Perotti e Boeri sulla Repubblica pagina trentuno andiamo cominciando a che si legame tra lavoro e caro prezzi che pagina trentuno inizia prima pagina ma andiamo in pagina eh trentuno e tra l'altro eh concludono così il loro intervento Boeri e Perotti ehm entrambi i fenomeni cioè la riduzione dell'offerta di lavoro poco qualificata e l'ondata di dimissioni dovrebbero spingere verso l'alto il costo del lavoro si dovranno infatti offrire salari più per convincere persone altri più alti per convincere persone altrimenti riduttanti a tornare al lavoro e competere con altre imprese nella ricerca di personale sin qui gli aumenti dei salari sono stati piuttosto contenuti in Europa negli Stati Uniti l'unico paese per cui sono disponibili i dati sul terzo trimestre duemila ventuno c'è stata invece un'accelerazione è dunque possibile che a differenza che nei periodi di ripresa dopo la grande recessione del duemila otto duemila nove questa volta la ripresa sia accompagnata da una spinta all'aumento dei salari bene se questo fosse un aggiustamento una tantum legato al maggior potere contrattuale dei lavoratori ma male se si dovessero mettere in moto spirali salari prezzi salari una delle incognite dei banchieri centrali in questo momento dopo lo shock della grande pandemia la politica dovrebbe facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro per incoraggiare la riallocazione di mano d'opera verso i settori meno impattati ma in Italia dopo aver perso mesi nel discutere di come bloccare i licenziamenti ora si continua a finanziare estensioni della cassa integrazione che sussidia i posti di lavoro anche in imprese senza futuro anziché della naspi che sussidia i lavoratori che cercano impiego inoltre si procede come lumache nella regolarizzazione degli immigrati che darebbe a molte imprese e famiglie i lavoratori regolari di cui avrebbero bisogno e non si interviene sulle regole del reddito di cittadinanza che scoraggiano la ricerca del lavoro su tutti questi fronti è necessario un cambio di passo dicono Boeri e Perotti con questo possiamo chiudere il capitolo che riguarda la manovra eh se ehm di di materie che sono in discussione citate anche in conclusione da Boeri e Perotti c'è il reddito di cittadinanza su questo vi segnalo oggi eh Salvatore Merl ehm no scusatemi ehm eh sul foglio ehm vi chiedo scusa eh a pagina quattro del dell'inserto ovviamente ehm ehm no si parlava si parlava sul sul foglio forse non è pagina quattro ehm e che vi devo dire eh succede anche questo eh che non si trovano le cose ehm va bene eh comunque c'era da qualche parte eh una eh un articolo sul ehm sul reddito di cittadinanza eh che però non trovo e quindi niente ci rinunciamo ehm va bene eh pazienza che che vi devo dire non lo trovo ehm andiamo andiamo però ehm ad altre questioni sul sole ventiquattro ore si segnala il tema della eh fattura elettronica il titolo di apertura fattura elettronica obbligatoria in arrivo per una virgola cinque milioni di partite IVA con flat tax dice la richiesta italiana all'Unione Europea utilizzare la misura fino al duemila ventiquattro anche sui forfettari in caso di disco verde la decisione finale spetterà al governo e parlamento questa è la notizia che ci dà il eh sole ventiquattro ore e mh a questo punto mh l'altra notizia voglio darvi prima di passare al caso Rai e riguarda la scuola è solo Repubblica che la mette in evidenza però a pagina venti riguarda gli esami un'altra maturità snella con l'orale e la tesina ma niente prova scritta Corrado Zunino ci dice che l'orientamento del ministro Bianchi per aiutare i ragazzi dopo le difficoltà degli ultimi due anni. Bene passiamo al tema del politico del giorno che non dovrebbe essere politico ma in realtà sappiamo perfettamente in Italia che la nomina della Rai eh al di là di tutto quello che si vuole è un fatto politico e eh come molti denunciano di lottizzazione politica non pare essere stato diverso anche questa volta la diversità è che eh diciamo non avendo lottizzato i cinque stelle come hanno fatto col contone e col conto e due si sono irritati allora eh Antonella Baccaro il fronte di Conte sulle nomine Rai noi esclusi basta andare in tv l'ex premier dice Fuortes ha esautorato solo i cinque stelle che ruolo ha avuto il governo? Ora diciamo che questo lo chieda Conte che è stato presidente del consiglio per due volte dovrebbe sapere bene eh cosa eh qual è il ruolo del governo soprattutto diciamo visto che Conte si è fatto per il compleanno di Bettini uno straordinario pranzo a quale eh ha partecipato insieme a Fuortes forse poteva parlarci prima con Fuortes e gli avrebbe magari detto prima che cosa sarebbe successo ma insomma fa un po' ridere questa cosa dei cinque stelle e diciamo la la il il tweet che ha fatto ieri Matteo Renzi è riportato sul Corriere della Sera nei titoletti di pagina dieci la posizione del momento cinque stelle sulla Rai dimostra che non c'è bisogno di piani segreti per distruggerli basta lasciar fare a Conte è stato bello grazie di tutto oh ovviamente questa uscita di Conte eh soprattutto la decisione che vedremo poi quanto sarà rispettata che tutti gli esponenti del momento cinque stelle non andranno più in Rai non parteciperanno più in Rai fa un po' suddite intanto perché diciamo ci sono dei ministri voglio vedere con Di Maio o Patuanelli o altri che non vanno più in in Rai e non sono più intervistati sarà molto divertente vedere questo ma anche tutti gli altri e infatti ci dice Emanuele Buzzi nel retroscena che la fronda del movimento contro la scelta del leader questo è un suicidio politico la lotta tra le due anime Filo Di Maio e vicini a capo è un suicidio politico come vedete questo Italia Viva Renzi in modo particolare lo dicono da tempo che in realtà i ragazzi si stanno suicidando non c'è bisogno di fare nulla se non lasciarli fare ma il tema viene ripreso anche sulla Repubblica pagina undici eccoci qua eh che oltre a dire beh Rai ma insomma quali sono le tra l'altro le nomi le diciamolo sono Rai la Maggioni va al Tg1 Sala al Tg3 e rimane invece San Giuliano al Tg2 eh l'Ira di Conte mai più Cinque Stelle in tv ehm e va bene eh però in realtà Giovanna Vitale mette in evidenza il declino di Conte eh nel suo retroscena di pagina undici dagli zero zero sette alle aziende di stato crolla la rete dell'ex premier CTS CDP Rai FS in meno di un anno Draghi ha archiviato il sistema di potere messi in piedi da Conte durante i suoi due governi e questo è un altro diciamo eh elemento benemerito per cui bisogna ringraziare Draghi e e chi ce l'ha portato e chi ha fatto di tutto per portare alla presenza del Consiglio beh il giornale è mh cattivo con il momento Cinque Stelle Conte senza poltrone ora ricatta la Rai l'ira dell'ex premier che reclama un posto nella lottizzazione disetteremo i programmi di Viale Mazzini è la prima pagina del giornale ma non è che il tempo la mette in modo diverso anzi Conte fa lo sciopero della fama Movimento Cinque Stelle senza poltrona alla Rai l'ex premier attacca non andrò più in tv eh eh soprattutto lui che era abituato e come ci ricorda qualcuno ad andarci con le dirette Facebook alla quale erano obbligate eh le televisioni compresa la televisione di stato di agganciarsi per poter trasmettere le sue fondamentali parole. Oh eh abbiamo visto il giornale abbiamo visto il tempo come la mette libero a pagina undici eh si occupa ehm anche del PD il PD occupa la Rai e Conte Piagnugola oggi il voto del CDA sulle nomine i grillini contro le scelte per i telegiornali esautorati non andremo più sulla tv di stato eh così la mette libero c'è anche il foglio da segnalare con due articoli il primo è quello di eh Simone Canettieri la Rai di Fortes manda in tilt Conte vendetta sul colle il capo del momento 5 stelle boicotta la tv pubblica accusa letta e sfida Draghi ma Di Maio gioca da solo sì perché diciamo ehm è abbastanza certo che Di Maio diciamo non abbia condiviso questa decisione de eh di Conte però contemporaneamente c'è Salvatore Merlo che ci parla invece della più in generale del sistema come muore la Rai Fortes doveva innovare invece ha lottizzato come se la tv di stato non fosse sull'orlo del default questo sul eh foglio a proposito eh del ehm Rai. Oh qui voglio segnalarvi tre commenti il primo è quello che riguardano praticamente tutti eh queste scelte del Movimento Cinque Stelle la prima che voglio segnalare è Francesca Schianchi sulla stampa a pagina ventisette lottizzazione e nemesi grillina e scrive in apre così la schianchi così abbiamo scoperto che via i partiti dalla Rai vale solo quando a mettere le mani sulla tv di stato sono gli altri partiti quante volte lo hanno ripetuto i Cinque Stelle in prima maniera quelli eh molto di lotta e poco di governo e ancora ieri l'ex premier Giuseppe Conte nella sua invettiva contro i nuovi direttori dei DG decisi denuncia senza confronto nelle sedi istituzionali ripeteva che no la lottizzazione politica del Movimento non piace ma siccome virgolette ci siamo ritrovati i prigionieri di questo sistema allora tanto vale lamentarsi e polemizzare per la rimozione di Giuseppe Carboni dalla guida del TG e poi va avanti e conclude così la schianchi così l'irritazione del leader Cinque Stelle l'annuncio un po' scivoloso del forfè di tutti i grillini dei talk show Rai una classe dirigente ormai ebbra di visibilità sarà sarà compatta nell'obbedire la sua retorica domanda sul ruolo giocato dal governo in queste nomine da ex premier sa bene quanto eh sa bene quanto conti anche l'esecutivo che nomina due membri del CDA suonano innocenti e fintamente ingenui noi avevamo voluto nomine di solo merito sganciate dai partiti ma se forte sceglie il forte se sceglie il metodo della lottizzazione allora dobbiamo contare anche noi spiegavano ieri dall'enturace di Conte fingendo di ignorare che per legge le nomine dovranno essere votate dal consiglio di amministrazione lì dove quattro dei sette esponenti sono stati eletti dal Parlamento non proprio dei passanti sconosciuti ai partiti e fingendo di non ricordare che il Movimento Cinque Stelle governa da oltre tre anni e per più di due è stato Conte il capo del governo invece di aspettare un fantomatico metodo Draghi che su queste nomine non si è visto poteva essere il Movimento Cinque Stelle inaugurarne uno cambiando la legge sulla governance Rai quando sarebbe stato più utile introdurre un meritocratico metodo ponte nella tv pubblica anziché protestare oggi per un TG in meno come qualunque politico di ogni epoca così la mette la schianchi e poi c'è da segnalare ancora Sallusti su Libero Conte è passato da Casalino a Fanalino parentesi di coda chiusa parentesi e tra l'altro dice Sallusti è sempre così quando i direttori gli scegli tu non parli di lottizzazione ma di decisione libera e ponderata quando non tocchi palle addirittura fanno fuori il tuo uomo nel senso di Carboni urli allo scandalo ma Conte va oltre e annuncia che siamo alla degenerazione del sistema dopo questa vergogna nessun grillino metterà più piede in Rai ecco questa è una bella notizia dice Sallusti o meglio sarebbe un'ottima notizia se fosse vera se l'impegno fosse mantenuto la Rai degrillinizzata purtroppo è un sogno che non si avvererà perché i politici grillini in particolare non resistono più di mezza giornata a non apparire in tv figuriamoci ad apparire al TG1 nell'ora di massimo ascolto la verità dice Sallusti è che i grillini sono stati fatti fuori dalla Rai dai loro alleati del PD che li ha usati per tornare al governo e poi scaricati perché oggi non contano più nulla tantomeno conta Conte e scusate il gioco di parole c'è una regola empirica che però non sbaglia mai secondo la quale ciò che succede Rai anticipa ciò che sta per accadere in politica se il TG1 passa dal controllo grillino a quello del PD vuol dire che d'ora in poi i 5 stelle saranno sempre sul cubi e traino del PD da qui non si scappa nella comunicazione ma non solo in quella Conte passa da Casalino a Fanalino a Fanalino di coda i tempi in cui occupava la Rai con i suoi lunghi sermoni serali sono un ricordo e una cosa è certa per fortuna non torneranno così salusti de profundis su Conte e sulla presenza nel Rai. Va segnalato anche sul riformista Aldo Torchiaro che poi fa una pagina intera a pagina 6 povero Conte gli hanno levato la Rai e Torchiaro nella prima parte del suo commento di prima pagina ricostruisce tutte le nomine che ci sono stato e poi conclude così Conte accusa il colpo indice una conferenza stampa a Montecitorio e sale sulle barricate siamo contro la lottizzazione ma qui viene esautorato il movimento e solo il movimento 5 stelle e batte i pugni sul tavolo nessun esponente momento 5 stelle andrà più nei canali di servizio pubblico annuncia senza tema di imbarazzo torna a calcare quei toni che erano propri del grillo delle origini ma lo fa dopo aver occupato militarmente la Rai per tre anni dopo aver parlato a rete unificate obbligando i tre canali della tv pubblica ecco esatto a prendere il segnale del suo account facebook privato quella storia è finita e Di Maio è pronto a fargli le scarpe nel movimento che anche questa volta ha capito la sua totale incapacità ecco questo mi pare ancora più definitivo eh su Conte e con questo possiamo chiudere il capitolo Rai apriamo il capitolo guirinale perché pure qui la questione eh non è meno diciamo problematica in questo caso però più per il centrodestra perché ieri c'è stato ehm alla presentazione del libro di Vespa un confronto tra Meloni e Letta che si sono trovati d'accordo contro il proporzionale ma soprattutto c'è stata un'uscita da Meloni Paola Di Caro e Giuseppe Alberto Falci ce ne parlano a pagina tredici Meloni sul curinale passo indietro di Silvio irritazione di Forza Italia duello sul tavolo di Letta gli azzurri è per la manovra e eh allora eh Meloni si smarca da Berlusconi e questo farebbe venire definitivamente meno poi lo vedremo non ce ne sono molte ce lo dice Polli ma insomma ehm ce lo dice Campi scusate le possibilità di Berlusconi ma insomma ora eh che succede che eh noi abbiamo visto ieri il Corriere della Sera che ha intervistato un abbiamo chiamato un vecchio della politica cioè Ciriaco De Mita e oggi eh la Repubblica risponde con un altro vecchio della politica con eh Bodrato che eh a pagina sette della Repubblica è intervistato da Concetto Vecchio e dice ah no forse anche ieri era di Mita scusate eh oggi è Dobrato eh Bodrato i partiti non sanno più come si elegge un presidente la politica è scelta va costruita una maggioranza siamo già in grave ritardo rischiamo un'elezione di risulta a ragione Formica serve un nome nuovo sì perché anche Formica se era pronunciato e allora si copia lo sentitovo Bodrato c'è un altro vecchio eh della politica in questo caso è eh Martelli e viene intervistato dalla stampa eh a pagina nove ehm che eh la mette così rosa di nomi del PD e scelta al centro destra per il Quirinale usiamo il metodo Pertini l'ex ministro della giustizia dice una parte indica dei possibili candidati e l'altra parte sceglie all'interno di questa lista e dice la candidatura di Draghi contiene una grossa incognita che succede il giorno dopo e ancora intervistato da Fabio Martini dice le prime votazioni richiedono una maggioranza larga e l'unico che potrebbe averla è Draghi e poi dice ricordo una sola elezione avvenuta in modo ordinato quando fu votato Francesco Cossiga questo ci dice eh sulla stampa ehm eh sulla stampa eh Martelli ehm vediamo ancora qualche cosa perché eh eh la Repubblica con Tommaso Ciriaco unisce il tema della crescita dei contagi con la vicenda Quirinale lo fa così la quarta ondata rilancia il tandem Draghi-Mattarella nel governo e tra partiti si ragiona sull' opportunità di confermare l'attuale assetto per evitare l'instabilità politica con il ritorno dei contagi e qui poi ognuno sapete questa roba ce la troveremo a voglia ancora quanto perché ognuno c'ha la sua e cerca magari anche di eh come dire farla valere eh sappiamo per esempio che Folli è uno che si è sempre speso per questo tipo di eh soluzione. Il giornale che è il più interessato perché l'operazione Meloni insomma eh mette in crisi la candidatura presunta e voluta di Berlusconi e insomma risponde così eh con Anna Maria Greco a pagina due la leader fratelli d'Italia lancia un siluro sul colle Silvio parla al PD questo significa un passo indietro questo è quello che avrebbe detto la Meloni per indicare che non è più in campo ehm Berlusconi Giorgia dice la la coalizione è unita ma abbandona il cavaliere candidato sulla legge elettorale invece d'accordo con i dem no al proporzionale e allora ad Alberto Signore a pagina tre parla del di dei di Meloni col doppio strappo e così si smarca anche da Salvini sui sovranisti dell'Unione Europea perché dice in Europa no al carrozzone di estrema destra non sarò al vertice di Varsavia e qui invece la rottura appunto con Salvini sul tema del gruppo unico al Parlamento Europeo. La Meloni eh si smarca. Ehm il domani a pagina quattro si occupa anch'esso della elezione del Presidente della Repubblica e in questo caso si dedica a Salvini. Stefano Petri e il direttore eh c'eravamo tanto odiati all'occhiello il Quirinale e il nuovo papete la sfida tra Salvini e Giorgetti. Il ministro Patonelli mil Movimento Cinque Stelle rivela che nel duemiladiciannove il leader della Lega ha fatto saltare il governo Ponte uno per fermare la nomina del suo vice a commissario Ue. Temeva di perdere il controllo del partito. Ora ha lo stesso dilemma. Questa è la lettura che dà il domani a proposito della eh elezione del Presidente della Repubblica. C'è da segnalare anche il tempo sul Presidente Repubblica c'è parecchia roba. Il tempo a pagina quattro eh Giorgia boccia il Cavaliere Alcolle scrive eh Pietro Di Leo. Vedete che i titoli sono praticamente univoci ehm Libero invece diciamo mh torna sulla scoop che poi non si capisce pare che non sia uno scoop perché non pare che sia così ehm come descritto da Verderami ieri sul Corriere Sera ma insomma torna sul tema i deputati a pensione per dicendo la casta litiga per avere la pensione sul dopo Mattarella pesa la ridicola guerra tra Camera e Senato sulla data che fa scattare la segna parlamentare. L'ipotesi di voto anticipato scatena la fame di vitalizio. Antonio Rapisarda ma quanto è bello scrivere queste cose che fanno vendere qualche copia che è proprio populismo e demagogia dello Stato puro. Ma vabbè così funziona. Andiamo a vedere le cose più concrete. E allora Stefano Polli sulla Repubblica che sta succedendo? Eh Stefano Polli dice che altro che pensioni cosa ebbe dicendo? Le carte si stanno incartando e il tema delle elezioni anticipate non è un tema ormai più così eh impronunciabile. Tra l'altro Matteo Renzi l'avevo sentito dire nei giorni scorsi mi pare proprio dalla Grubera l'ha detto e anticipato che vedeva dei strani segnali. E cosa scrive Folli? Una legislatura quasi consumata dice è chiaro a tutti che il governo di sé in unità nazionale regge grazie a Draghi in primo luogo e poi in virtù delle convenienze politiche di quelle forze che non hanno ancora deciso come muoversi. In fondo covid a parte è l'aspettativa del Quirinale che tiene fermo il quadro. Dopo l'elezione del capo dello Stato chiunque sarà ci si potrebbe accorgere che la legislatura è ormai consumata come una candela. Saremo entrati infatti nell'anno preelettorale la scadenza regolare del Parlamento nella primavera del duemilaventitré e servirà una guida molto autorevole e determinata per dare una rotta al governo impedendo il gioco delle viti incrociate. Lo stesso utilizzo dei miliardi dell'Unione se non è equilibrata attraverso una manoporte può diventare un'arma elettorale di una parte contro l'altra. In sostanza scrive Folli è vero che l'attuale anomala coalizione potrebbe non sopravvivere al passaggio di gennaio specie se l'elezione del presidente delle a Camere riunite anziché essere regolata da un accordo figlio del buonsenso fosse delegata a una sorta di duello rusticano in cui nessuno dei contendenti si presenta più forte dell'altro. Peraltro anche l'altro argomento usato per allontanare lo spauracchio del voto anticipato dall'idea di quanto la legislatura nata nel duemiladiciotto abbia esaurito il suo slancio politico. Si dice con qualche fondamento che deputati e senatori siano soprattutto interessati a maturare il diritto alla pensione avverrà nel settembre del prossimo anno e che fino ad allora accetteranno qualsiasi compromesso pur di evitare lo scioglimento. Eppure un'inchiesta del Corriere della Sera dimostrerebbe che le cose non stanno così. Ogni parlamentare compresi quelli nemici della casta avrebbe la possibilità di ottenere il vitalizio attraverso una sanatoria interna senza oneri per le casse dello Stato. Eh ieri però c'è stata una dichiarazione del presidente di questa commissione eh alla Camera che è lo sacco che ha detto che questa cosa invece non esiste non è assolutamente così. Eh dice conclude così folli al presidente della Repubblica che sarà eletto tra poco più di due mesi spetterà quindi la responsabilità di verificare quali sono i margini per un governo efficiente di fronte a un Parlamento esausto specchio in Italia assai cambiata in meno di quattro anni. Eh mh più vicine le elezioni anticipate secondo Folli vediamo eh come la pensa Ninzolini che in questo caso invece si occupa del tema Meloni Berlusconi centrodestra insomma leggiamo l'incipit perché dice tutto cavoli a merenda qui qui rinalmente scorretto e dice la gratitudine non certo una categoria della politica già tra cofini che Silvio Berlusconi tirò fuori dalla emarginazione un tempo si diceva in maniera diversa fu adescato con il miraggio del Palazzo Chigi da Giorgio Napolitano per mandare a casa l'ultimo governo del Cavaliere. La trasparenza invece è una qualità della politica e come? Nel rapporto con gli altri partiti e ancor di più con gli alleati. Ebbene affermare come ieri Giorgia Meloni che Berlusconi ha fatto un passo indietro rispetto al Quirinale solo perché per responsabilità ha accettato l'idea di Enrico Letta di mettere in piedi un tavolo della maggioranza che sostiene il governo è senza senso. C'entra come i cavoli a merenda. Oppure peggio è un espediente per dire no alla candidatura del Cavaliere senza assumersene la responsabilità. Ora per la leader di Fratelli d'Italia si pone un problema di chiarezza. L'addio ai sovranisti e alla destra di Le Pen e contemporaneamente questa strana posizione sul Quirinale in un dibattito con il segretario del PD hanno tutta l'aria di essere un tentativo di legittimazione magari in un disegno neppure tanto coperto per sostituire Forza Italia un'operazione politicistica politicista che in altre occasioni ha portato altri protagonisti a scambiare i miraggi per realtà. Questo è quello che scrive tra l'altro Minzolini ma eh visto che parliamo di Berlusconi allora andiamo a prendere Alessandro Campi sul messaggero. La lezione del Cavaliere alla destra in affanno divisione interna e dice Berlusconi presidente della Repubblica è un bel sogno per i suoi storici avversari in realtà è un incubo che tanto non si realizzerà. Lo sa lui per primo che in questi giorni si sta accreditando in quel ruolo soprattutto per divertimento personale nei panni da guastatore del terreno della politica che gli sono sempre piaciuti pur essendo e di parte di quel teatrino anche se ormai in qualità di storico impresario più che di primatore non perché davvero convinto di potercela fare. Il problema semmai sono i suoi amici ed estimatori al solito più lea i più lealisti del re che ne parlano come di una possibilità concreta. Un ottoagenario nei panni eh che in questa fase storica richiedono una grande energia del guardiano della Costituzione si domanda Campi un uomo che ha storicamente spaccato in due l'opinione pubblica messo a fare il governo il metter messo a fare il garante dell'unità nazionale gli si deve volere molto male per immaginare di stargli tale di dargli tale incombenza senza peraltro nemmeno chiedersi quanto davvero sarebbe utile l'Italia una simile soluzione. Schive ancora Campi nella corsa aquirinale quella cui il centrodestra da lui inventato può ragionevolmente ambire dopo Scalparo, Ciampi, Napolitano e Mattarella è piuttosto un capo dello Stato che anche non dovesse provenire organicamente dalle fila del moderatismo italiano andiamo a pagina venti del messaggero dove continua eh Campi eh almeno non consideri i suoi elettori e simpatizzanti senza ovviamente dirlo in pubblico la parte sbagliata e impresentabile della nazione. Già quest'ultimo sarebbe un successo, un riequilibrio storico. Se è vero infatti che gli insulti che un tempo gli venivano riservati oggi hanno come destinatari Meloni e Salvini è anche vero che la strategia delegittimante di una metà almeno della società italiana sembra rimasta la medesima di un tempo. L'antifascismo militante perpetuo ha sempre bisogno del fantasma del fascismo eterno salvo cambiare ogni volta la fonte della minaccia. Il cavaliere ha ancora un bel gruzzoletto di voti in Parlamento. Al momento buono d'intesa con i suoi alleati storici se ritiene a ciò che ha politicamente costruito può usarlo dunque per questo obiettivo sottrarre per una volta il Quirinale al monopolio etico politico della sinistra senza revancismi ma appunto per ragioni di effettiva rappresentatività ed unificazione nazionale così tra l'altro la mette Campi sul messaggero. Chiudiamo anche il capitolo Quirinale ma invece sul trattato del Quirinale voglio segnalarvi quello che sarebbero dicando Macron e eh il presidente Mattarella eh ne parla a pagina otto il ehm l'avvenire eh il trattato del Quirinale vicino alla firma il venticinque Macron a Roma per segnare con Draghi intesa per rafforzare le relazioni Italia Francia e il sottosegretario Amendola che parla e dice siamo alle battute finali avanza la cosiddetta cosiddetta alleanza Dracron e questa è una delle ragioni per le quali molti pensano che ehm in realtà il rapporto Francia Italia potrebbe sostituire quello Francia Germania con il venir meno della Merkel e la situazione difficile che sta attraversando eh la Germania e per quanto riguarda i partiti insomma qui soprattutto diciamo in conseguenza anche della RAI e vi dicendo è il movimento cinque stelle che è è sotto l'occhio del ciclone non riabilitiamo Berlusconi l'alto là dei grillini duri e puri la ministra Dallone dice Conte cerca solo l'appoggio di Forza Italia il PD di prematuro il tavolo sulle riforme Federico Capurzo che ci parla ehm di di Alessandro Di Battista che dice io a Berlusconi gli ho letto la sentenza dell'Utri sotto casa ehm eh insomma eh c'è qualche problemino dopo soprattutto Berlusconi ha detto che Conte gli somiglia molto e ti dicendo abbiamo letto ieri e diciamo Jacopo Iacoboni che è uno che i Cinque Stelle riconosce bene dalle origini firma l'articolo siglato la storia sulla pagina sei della stampa veleni e corteggiamenti le giravolte Movimento Cinque Stelle su Siconano il dialogo con il Cavaliere per evitare di essere esclusi su Costituzione e Quineale ma ci arriveremo perché c'è Maragutti che firma un editoriale su questo eh prima però voglio segnalarvi il riformista con eh Massimo Salvadori a pagina due che parla della possibile entrata dei Cinque Stelle eh nel Partito Socialista nel gruppo socialista al Parlamento Europeo e non è molto d'accordo eh i socialisti sono democratici cari Cinque Stelle a voi serve un miracolo il movimento nel Partito Socialista Europeo sconcertante dice congressi periodici tecniche democratiche nei rapporti con gli iscritti una carta dei valori stabili sono alla base dei partiti socialisti la struttura dei Cinque Stelle non è stabile né democratica così eh Salvadori sul riformista ma allora ehm rapidamente vediamo eh Malagutti cosa dice a proposito di Conte e della sua decisione di aderire alla proposta di Letta ma poi aderirvi eh portandoci dentro anche la proposta di riforma costituzionale che come tutti si evidenziano e come mi sono permesso di evidenziare anche io è una presa in giro anche semplicemente perché non ci sono proprio più i tempi materiali per fare una riforma costituzionale ma ehm la mette così Malagutti la costituzione e i guai di Giuseppi la singolare apertura di Conte che rilancia allargando il patto per le riforme evocato dalla Enrico Letta non può essere eh liquidata come un'uscita estemporanea e merita piuttosto una serie di riflessioni che diventano domande la prima Conte crea o suppone di farlo Di Maio distrugge giudicando l'idea di un grande patto che tenga dentro Salvini e Renzi controproducente quelli sono inaffidabili può essere ma Di Maio si fida di Conte e Conte si fida di lui e soprattutto chi comanda nel movimento? Beghe che restano sullo sfondo di temi più rilevanti e qui arriva la seconda questione una politica graffata all'ormai mitizzato e mitologico carisma di Mario Draghi incapace di distinguere le differenze tra l'attuale tra attuale e caduco tra contemporaneo e defunto piuttosto che lasciarsi travolgere dall' ossessione di una più rassicurante architettura istituzionale dovrebbe preoccuparsi ora immediatamente di produrre una nuova legge elettorale chi spiega a elettori ed eventuali eleggibili che tengono in ostaggio le camere per paura di perdere pensioni e prebende quale sarà il meccanismo di consenso popolare che porterà la nascita di un parlamento liofilizzato? Quello attuale destinato a generare mostri? Un maggioritario secco? Un rigoroso proporzionale magari con un sano sbarramento al 5% per impedire a cespugli e cespuglietti di imporre il proprio nanismo nella maggioranza? La ridondanza di interrogativi rassicura ma almeno un'altra domanda necessaria. Essendo una irricenibile forzatura quella di chi immagina di incoronare Draghi al Quirinale inaugurando surrettiziamente una forma di semipresidenzialismo di fatto perché mai un uomo come l'ex premier della BCE dovrebbe rinunciare a confrontarsi con Macron, von der Leyen, Biden, Putin e Xi Jinping per fare il giudice arbitro delle nostre scaramucce di portile limitandosi a qualche tè delle cinque con Steinmeier non sarebbe riduttivo per lui e per noi? Il presidente del consiglio in carica ha accettato di sedersi a Palazzo Chigi forte delle garanzie ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Perciò a rigor di logica o l'intero Parlamento comincerà l'attuale inquilino del Colle a rimanere al proprio posto oppure difficilmente Draghi e la sua austerità quasi primitiva proseguiranno il lavoro accettando di sottoporsi al martellamento propagandistico elettorale destinato a esplodere a un anno dal voto. Scusate. Se avesse ragione Nietzsche bisogna avere il caos dentro per partorire una stella danzante considerando il marasma del nostro quadro politico saremo a cavallo. Purtroppo l'esperienza italiana ci insegna che il caos genera solo caos e che i leaderini romanizzati sono di fronte a un' alternativa secca. Blindare Mattarella e dunque il suo presidente del consiglio almeno altri dodici mesi o chiudersi in una stanza per immaginare una legge elettorale che impedisca al piccolo miracolo italiano di quest'anno di finire nella fossa delle Marianne delle nostre illusioni così malagutti sulla stampa. Chiudiamo anche questo capito? Per quanto riguarda la Lega vi devo dire ma non perché ma c'è ogni tanto il domani c'ha delle cose veramente singolari. La prima pagina del domani è dedicata a che all'assessore della Lega spara arriva il carabiniere leghista condannato. Insomma eh Nello Trocchia cosa vuole mettere in evidenza? Che quando c'è stato l'assessore leghista che ha ucciso ehm Juntz el eh Busettawi ehm vi ricordate il migrato che è stato colpito nella piazza dal dall'assessore bisogna capire se la collustazione o la collustazione di vicendo però mette in evidenza che eh poco dopo lo spara arrivano le auto dei carabinieri e della polizia poi una macchina nera la guida un militare che mostra confidenza con Adriatici lo saluta e lo accompagna in caserma domani che il giornale può rivelare di chi si tratta è un carabiniere condannato e vicino alla Lega e con questo su questo uno ci fa il titolo di mia pagina domani ma ognuno fa quello che crede giustamente per altro ehm riforma della giustizia eh vi segnalo un'intervista a Cagliazza su dubbio che mette in rilievo cosa che già era stato fatto quanto i decreti attuativi della riforma della giustizia possono essere un rischio serio di eh riportare dentro quello che siamo riusciti a mettere fuori quando abbiamo parlato il decreto e quindi eh intervistato da Valentina Stella riforma penale appello al rischio evitiamo la beffa nei decreti attuativi con la nostra iniziativa abbiamo impedito che nel testo del DL del DDL delega il diritto ad impugnare fosse subordinato alla cosiddetta critica vincolata ma la commissione Canzio ha ripreso a parlarne questa è la eh preoccupazione del presidente delle camere penali Gian Domenico Cagliazza sul dubbio oggi a pagina sette si parla di open e qui amici miei eh siccome le novanta due mila pagine sono ricche eh poi c'è chi le ha lette con un po' di ritardo come domani e che oggi con Fittipaldi che poteva essere da meno rispetto agli altri fa due pagine sul fatto tra dark room affari e politica i segreti dei Rasputin di Renzi nelle carte dell'inchiesta sulla fondazione open le chatte inedite tra Marco Carrai e Alberto Bianchi petali del giglio magico invitano a dare lavoro allo studio della Boschi sono tutti più furbi di noi l'ufficio non ufficiale voluto da Carrai i rapporti con Tony Podestà e le miniere di Litio Berlusconi aiutiamolo convivendo i business segreti sull'Italia ora io non ho certo avuto il tempo di leggere vedo i titoletti vi dicendo eh sarò molto interessato a capire che cosa c'entra tutto questo con il eh con la parte diciamo dell' inchiesta open che è quella che dovrebbe essere ehm diciamo depositata perché sono cose che incidono sui eh sul sul processo ma eh tant'è però eh voglio segnalarvi sul dubbio eh Novi che parla invece a pagina sei della questione autorizzazione all'utilizzo delle telefonate di Renzi nel conflitto di attribuzione su open chance di rivincita dei partiti su PM la mette così Novi e a proposito di quello che è successo che Renzi ha detto che rinuncerà Renzi ha le proprie strategie e i propri interessi ma se davvero decidesse di non avvalersi dell'immunità per quelle intercettazioni effettuate quando era già stato eletto senatore renderebbe tutto più semplice darebbe ancora più valore a una risposta forte di Palazzo Madama sarebbe meno praticabile per gli avversari dell'ex premier inclusa la stampa a lui più ostile a cominciare dal fatto quotidiano liquidare tutta la vicenda come un salvataggio della casta a un proprio affiliato un conflitto di attribuzioni alla consulta privo di effetti processuali sulle intercettazioni di open che resterebbero tutte utilizzabili nell'eventuale giudizio darebbe corpo a una reazione forte della politica di fronte all'invadenza delle toghe un segnale utile per tanti motivi capace di rimettere in equilibrio un rapporto viziato ormai da trent'anni cioè dallo scoccare di mani pulite di cui a breve si celebrerà da ricorrenza e se davvero la consulta censurasse l'operato della magistratura l'effetto sarebbe ancora più soggettivo più suggestivo dopodiché forse sarebbe utile se i partiti riflettessero sulla radice del problema il cedimento incondizionato all'anticasta e iniziassero a riconsiderare l'assurda abolizione dei finanziamenti si è capito che un masochismo del genere conduce solo alla fine del principio di rappresentanza e ora che neppure le toghe hanno la credibilità necessaria per presidiare il centro della scena il danno è ancora più chiaro a tutti così novi sul dubbio eh Italia eh poi ah no voglio segnalarvi anche sul foglio Antonucci che ritorna Antonucci ha fatto un'intera pagina molto bella sulla inchiesta open e oggi si occupa della procura di Firenze con un articolo a pagina quattro del foglio un guai a Firenze dal caso open alle inchieste sul cavaliere le avventure della procura preferita dal fatto 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 quotidiano si intende Italia Gate beh è una vicenda inquietante questa di questa deputata che porta questi tipi dentro il carcere ma però non è solo questo è anche come è stato possibile che nel carcere gli hanno consentito di fargli entrare poi l'interrogatorio eccetera eccetera insomma ne ritorna a parlare oggi la repubblica a pagina tredici ehm Italia Gate giallo sugli americani fantasma cartabia capire cosa accade in carcere oltre ai due personaggi non identificati in visita con l'ex cinque stene Puli al al hacker anche illegale Morigia sì insomma c'è qualcosa che non ha funzionato nel noi per andare a fare la nostra vista in carcere ci fanno la ehm la 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 l'attack praticamente non si capisce bene che è oh ehm il foglio si dedica a Gratteri eh lo fa a pagina tre perché perché Gratteri è intervenuto dalla Gruber e ha detto varie cose e tra l'altro ehm attaccato il ministro della salute attaccato alla ministra dell'interno e peraltro dice quando sul tema gli viene chiesto se non ci siano molti errori giudiziari Gratteri risponde che virgolette fa comodo additare la responsabilità al magistrato x o y per virgolette demolirlo sul piano mediatico in questo caso niente responsabilità tutti devono pagare per le proprie scelte i novax insomma Gratteri dice che diciamo le ingiuste detenzioni gli errori giudiziari invece non è colpa del magistrato x y chi lo sa è colpa del del tempo e delle delle luone che si abbattono. D'altra parte poi se pensiamo eh a un magistrato che si chiama Woodcock che a proposito di processi mediatici e compagna Bella ne sa certamente qualcosa oggi è preso eh di mira dal quotidiano eh il riformista Piero Sanzonetti V Woodcock ci ha querelato ora è incompatibile col processo Romero processo Romero esattamente fatto dal magistrato napoletano eh il riformista pagina cinque ci porta la testimonianza eh di Ignazio Patrone che è scientifico di Antigone che ci dice ergasto lo stativo la proposta di riforma è peggio dell'originale il testo base adottato ieri dalla commissione di giustizia della camera riscrive in senso peggiorativo la disciplina vigente se non cambierà si ricchi si rischia un conflitto istituzionale tra consulta e legislatore legislatore temo che eh non sia infondata questa valutazione eh sul foglio Cirino Pomicino replica violante che è intervenuto con un'altra pagina nei giorni scorsi e lo fa a pagina eh quinta del riformista le conversioni di violante benvengano la svolta garantista e l'attacco al populismo penale ma c'è una domanda dov'era l'ex dirigente del centro sinistra negli ultimi trent'anni una replica dura all'articolo pubblicato sul foglio questo è Cirino Comicino che replica Don Violante chiaramente parliamo dei temi della giustizia eh l'avvenire ci dà notizia a pagina su altri argomenti a pagina undici che finalmente arriva alla conferenza sulle tossicodipendente sulle tossicodipendenze ovviamente ognuno poi la interpreta come vuole droga torna alla conferenza cosa c'è davvero sul tavolo la ministra per le politiche giovanili da doni annuncia le due giorni di confronto i prossimi ventisette ventotto novembre a Genova basta immobilismo e prese di posizioni personali i nodi del testo unico del confronto con i servizi così mette l'avvenire che però almeno dà la notizia però l'avvenire da anche eh come dire non la notizia prende una posizione cioè riporta la posizione della CEI sulla eutanasia eh a pagina eh a pagina eh eh anche qui mi sa che ci siamo ehm chissà che pagina eh e la sono persa va bene eh comunque la CEI ha una posizione vabbè comunque ce l'abbiamo anche in prima pagina eh terminare una vita non è mai vittoria messaggio CEI per la giornata eutanasia contro eh contro Vangelo e costituzione no egoismi in pandemia ma questa è la posizione dell'avvenire però perlomeno anch'esso su questo ne parla eh va bene come potete immaginare su tutti i giornali ci sta la notizia del eh bambino di dieci anni ucciso dal padre nel Viterbese ma anche di quello che è successo se non sbaglio a Sassuolo cioè di un uomo che ha ucciso un'intera famiglia eh vabbè notizie di cronaca che fanno raccapricciare sul tema delle dei migranti la repubblica mette in evidenza cosa sconvolgente cioè che di nuovo purtroppo è accaduto come già in passato tra c'è di tragedia dopo il salvataggio in mare nella stiva migranti morti soffocati la geobart di 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 movimento senza frontiere soccorre un piccolo battello partito dalle coste libiche su quale erano stipate centonove persone in dieci sono stati uccisi dai fumi della benzina l'immagine dei corpi nelle buste nere sul fondo della barca insomma sono veramente cose che non si possono sentire eh il messaggero chiudiamo eh a pagina quattordici ci parla della italia che si mette di traverso sui doni sui sulla sull'azienda che eh costruisce droni e che dovrebbe andare eh alla Cina droni italiani in Cina governo al contrattacco Palazzo Figgi ha avviato la procedura per esercitare i poteri speciali su Alpi Aviation per la finanza l'azienda frullana ha trasferito le quote societarie senza l'ok dell'esecutivo e poi ancora eh la donna italiana che si è radicalizzata e va bene è stata arrestata eh poi Draghi ha incontrato ehm il Rama il leader albanese ehm che dice che gli piacerebbe traire la UE ma se non è possibile pazienza e poi su tutti i giornali lo prendo dalla ehm Repubblica in prima pagina non sono il killer di Malcolm X scagionati dopo oltre cinquant'anni eh in America ehm era un uomo ucciso a Harlem nel nel 1965 insomma dopo cinquantacinque anni vengono scagionati e insomma si potrebbe dire che ogni mondo e il paese le cose non accadono soltanto in Italia ma insomma tant'è va bene buona giornata a tutti se volete ci vediamo domani grazie a tutti